attraverso francesca r.f attraverso francesca r a cura di vb domanda una domanda stupida domanda un altro partecipante non esistono domande stupide domanda e adesso aspetta volevo sapere che cose eravamo io e massimo se c'era un legame in un'altra vita guida perché una domanda stupida domanda rispetto ad altre domande che ti hanno fatto penso che questa sia una domanda superficiale soprattutto in questo momento storico guida lo sai che la domanda che viene è la più importante per chi la fa e c'è un perché perché la domanda più importante è quella che nasce dall'esigenza karmica di comprensione l'aver già percepito che esiste un legame che va al di là di questa incarnazione e di questa apparenza denota un sentire che va oltre la tua emozione è proprio nella richiesta di sapere se quello che hai percepito è effettivamente così ma tu sai che è così domanda sì vuoi solo sapere che cosa eravate ma in che cosa eravate c'è anche il perché vi siete trovati in questa esistenza esistenza incarnativa domanda sì guida e che cosa vi ha spinto a ritrovarvi vedi potrei dirti che esiste un'azione per cui chiunque ti abbia incontrato si è influenzato di te e questa influenza non l'abbandonerà ma si ritroverà sempre nella sua essenza e sai di quali persone parlo altrimenti i matematici qui presenti te lo sapranno dire senza che ti dica qualcosa che adesso sposterebbe la tua attenzione la sostanza è quella parte della vostra essenza e quindi della vostra coscienza nota che non sto usando il termine coscienza sto usando il termine essenza ti faccio notare questa particolarità perché questa parte della coscienza è ancora più piccola di ciò che si è che è il tutto e l'unione vera di quello che è l'uno in questo vi siete ritrovati perché dovevate ritrovarvi chi eravate eravate tante cose in varie vite siete stati padre figlia amanti siete stati fratello e sorella siete state persone che nelle varie incarnazioni non hanno vissuto eventi tragici non hanno vissuto tipi di karma violenti no hanno sempre vissuto una manifestazione dell'amore in qualunque tipo di rapporto si siano trovati continua no